Buonasera a tutti e tutte, siamo qui con Coca Puma che si è appena esibita qui allo Sherwood Festival 2023. Vorrei iniziare la nostra conversazione chiedendoti di illustrarci un po' il tuo mondo. So che hai fatto parte di una band, di un altro progetto musicale che si chiama Quiver e se ci puoi parlare un po' di chi è Coca Puma, che cosa cerchi di esprimere con questo nuovo progetto, illustraci un po' questo mondo. Allora, diciamo che questo progetto è nato in maniera molto naturale, io dopo il gruppo avevo iniziato a buttare giù un po' di canzoni, a lavorare su un nuovo sound, volevo fare una cosa che si avvicinasse un po' di più al pubblico, con il gruppo invece facevamo una cosa decisamente più, non dire decisamente, però insomma un po' più ricercata e volevo, non so, sperimentare, fare qualcosa di diverso, con qualche sfumatura pop anche, mi sono un po' buttata sulla produzione anche, che poi insomma con la band alla fine suonavamo in sala, quindi l'aspetto di produzione veniva un po' più a mancare, quindi diciamo è nato così, un po' per caso, mi sono, io ho sempre scritto, ho sempre suonato, quindi è così, è nato così, molto inaspettatamente, ecco, ho iniziato a raccogliere queste canzoni e piano piano a strutturare un sound un po' più definito. Il tuo sound è da quello che abbiamo sentito anche dalla tua performance che c'è appena stata, è un po', se posso permettermi, un po' elettronico, soul, sperimentale, a tratti jazz possiamo dire, però correggimi se sbaglio. No, 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 tutto bene. Oltre ad essere cantautrice so che hai composto anche musiche per film e documentari. se ci puoi parlare un po' delle sue influenze, quali sono, sì, influenze artistiche di ogni tipo che pensi abbiano impattato molto il tuo modo di vedere la musica, ma anche del progetto attuale che hai con dischi sotterranei. Allora, io comunque ho studiato jazz, quindi sicuramente la vena jazz, ho cercato di farla sentire il meno possibile, però comunque c'è, fa parte di me. Poi, insomma, il soul, il new soul, il funk, anche se poi forse in questo progetto si sente poco, sono tutte influenze che mi hanno sempre accompagnata nei miei percorsi musicali. L'elettronica, invece, è un genere che sto approfondendo soltanto da poco, da poco tempo, però, non so, è un genere in cui mi sono ritrovata molto, trovo che sia anche molto più accogliente come scena rispetto a quella che magari è, a quella jazz. Quindi, soprattutto, la possibilità di poter mischiare queste cose, di poter giocare con i vari generi mi ha dato molta libertà e molto divertimento, sicuramente. Ok, quindi diciamo che tra ispirazione da diversi bacini, diciamo, artistici di genere. Sì, sì, sì. Sono anche una grande appassionata della musica brasiliana, che, purtroppo, nei miei ultimi lavori non sono riuscita ad inserirla. Poi, insomma, scrivo anche delle cose con delle influenze più bassa nova, di musica brasiliana in generale, però ho deciso di non metterle ancora in questi lavori che sto facendo adesso, ma di svilupparla magari in un lavoro prossimo. Ok, certo. Che poi, magari, anche se non è un qualcosa che si sente a primo ascolto, penso che le influenze che abbiamo si sentano un po' nel sottotesto, diciamo, no? Fanno parte di quello che sei, senza esplicitarle, in un certo senso. Sì, forse nella voce direi che questa cosa un po' si sente, no? Il mio modo di cantare riprende un po' forse quell'universo lì. Non tanto metricamente, ma più nell'approccio canoro, forse. Assolutamente. Possiamo dire che sei new entry, diciamo, di dischi sotterranei. Possiamo? Possiamo da collaborare insieme dal 2022, se non sbaglio. Sì. Ok, e come mai la scelta di far parte, di collaborare con un'etichetta indipendente? E se ci puoi raccontare un po' di come è nato, di come ti sei avvicinato a loro, come loro si sono avvicinati a te e come sta andando questo percorso? Ma questo percorso è iniziato da molto poco, realmente poi con i ragazzi ci siamo incontrati di persona, questa è la seconda volta. Con dischi, diciamo, io ho sentito parlare di loro tramite i Post Nebbia, che sono grandiosi, mi piacciono moltissimo. E poi, insomma, ho conosciuto prima i Post Nebbia e poi successivamente sono venuta a sapere di dischi sotterranei anche poi dell'universo che circonda tutto questo, insomma, l'etichetta. Devo dire, non so, poi io avevo queste canzoni, le stavo creando, volevo, diciamo, proporle un po' in giro e questa, diciamo, la realtà di dischi sotterranei è stata una delle realtà che si è interessata di più al progetto e che soprattutto ha dato più valore a quelle che sono le mie idee e per me è stato importantissimo e speciale. Quindi sono sicura che, voglio dire, questo è stato un buonissimo inizio, sono poche le cose che sono successe fino ad ora, però sono fiduciosa. Grazie. 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 Grazie.